Nel computerio nasce come negozio, come vendita e assistenza informatica, pc e accessori nel 2002. Ma nell'arco degli anni poi abbiamo avuto altre professionalità, quindi abbiamo creato un'azienda che sul settore informatico copre 360 gradi, quindi non solo la vendita e l'assistenza in laboratorio ma abbiamo iniziato a fare anche contratti aziendali e adesso abbiamo aziende importanti con parchi macchine di anche 60-70 macchine che gestiamo totalmente dai server, dal wifi, hotspot, telefonia, centralini, voip, quindi diciamo che ci siamo un po' allargati a tutto quello che è l'informatica e le telecomunicazioni. Ultimamente nel giro di due o tre anni abbiamo aggiunto anche un reparto software completo per lo sviluppo software e la creazione di siti internet, web agency, facciamo anche marketing, web marketing, facciamo campagne Facebook per i clienti e tutto quello che può essere comunicazione. Per completare la rosa delle nostre capacità, delle nostre competenze, ormai già da svariati anni abbiamo aggiunto la videosorveglianza, la sicurezza, quindi webcam, impianti d'allarme o wireless e tutto quello che riguarda la videosorveglianza. Grazie a tutti.